Il primo aprile, Consiglio regionale per l'approvazione del Cura Abruzzo 1. Andiamo in aula e il Presidente del Consiglio Sospiri accantona la bandiera dell'Europa. Ieri invece l'Europa viene incontro all'Italia e quindi anche alla regione Abruzzo con 350 milioni certi di recovery fund che distribuiremo anche nella nostra regione. In questi mesi è stata sventolata solo un'unica bandiera, quella della propaganda. Questi sono i dati della nostra regione. Tante promesse, pochi fatti, nessun fondo arrivato nelle tasche dei cittadini abruzzesi. Ma soprattutto hanno intitolato queste leggi al Cura Abruzzo. Bene, tra i primi 8 milioni di euro riprogrammati, guarda caso, proprio nei fondi strutturali europei, quindi fondi europei, 8 milioni erano dedicati agli operatori sanitari che tanto hanno fatto bene nei mesi di marzo e di aprile per la nostra sanità, per curare i nostri cittadini abruzzesi. Ancora oggi non riescono a firmare un accordo che faccia arrivare qualche soldino in più nelle tasche degli operatori sanitari. E ancora abbandonati sono i tirocinanti che vivono con 600 euro al mese e che non hanno potuto lavorare in quei mesi. Ancora abbandonati sono tante altre categorie, da chi ha i figli a studiare fuori e paga gli affitti, a chi ha le borse di studio, a tanti professionisti, ai quali addirittura, con l'ultimo bando, si chiede di dimostrare una diminuzione del reddito rispetto ad aprile del 2019. Ben sapendo che molti professionisti non incassano in maniera sistematica ogni mese e quindi alcuni potranno essere avvantaggiati e molti altri no. E su questa misura naturalmente chiediamo una correzione di quel bando.